In queste ore drammatiche sono vicino all'intera popolazione dell'Irak, in particolare a quella della città di Mosul. I nostri animi sono scossi dalle efferati atti di violenza che da troppo tempo si stanno commettendo contro i cittadini innocenti, siano musulmani, siano cristiani, siano appartenenti ad oltre etnie e religioni. Sono rimasto addolorato nel sentire notizie dell'uccisione a sangue freddo di numerosi figli di quella amata terra, tra cui anche tanti bambini. Questa crudeltà ci fa piangere, lasciandoci senza parola.